Intesa raggiunta mancano solo alcuni dettagli tra il comune di Torri del Benacco, associazioni dei subacquei, guardia costiera e vigili del fuoco per arrivare a modificare l'ordinanza che vieta le immersioni nel comune di Torri del Benacco dopo i casi luttuosi degli scorsi mesi. Il comune di Torri aveva vietato le immersioni in mancanza di un nuovo accordo che garantisca la sicurezza per i sub. Sub che arrivano qui da città e province limitrofe per praticare le immersioni in uno dei posti più suggestivi del Garda. Era stato il prefetto di Verona Donato Cafagna in un incontro sulla sicurezza che si era tenuto a Bardolino a sollecitare il comune a farsi promotore dell'apertura di un tavolo di confronto per far riaprire le coste e i sub e il confronto è andato a buon fine. Abbiamo trovato una linea, adesso subito dopo Pasqua sospendiamo l'ordinanza e cominciamo a definire quelle regole decise dal tavolo per poi attuare all'interno del regolamento balneare del lago di Garda. È un lavoro faticoso ma dà sicurezza di vita da parte dei subacqui ma dà anche regole ben chiare anche per i turisti e per la vita quotidiana e comunitaria del lago. Ma quali sono dunque queste nuove regole a cui ha partecipato per la sua stesura anche la regione del Veneto e la comunità del Garda? Ma riguarderanno, l'importante è la visita medica annuale che non viene fatta da un semplice medico di base ma da medici autorizzati mettiamolo in questa maniera. Ci vorrà il famoso patentino e quindi la possibilità di essere autorizzate secondo i livelli. Il comune si è preso atto e si è preso l'impegno economico davanti alle associazioni di creare quel parco sub che lo verrà fatto a nord del paese tra Lungolago Vittorio Veneto e il monumento dei caduti e verrà fatto subito tanto più che c'è già una squadra di gruppo dei subacqui che erano presenti che lavorano a fianco dell'ufficio dei lavori pubblici. A livello sicurezza metteremo dei cartelli lungo i 14 chilometri delle spiagge che bagnano Torri e la faccione di Pai dove metteremo le zone balneari e indicheremo anche le regole, queste regole semplici ma regole che permettono una certa sicurezza nell'immersione.